Il Comune di San Vincenzo ha ottenuto la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS per la gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti sul territorio comunale. Il Comune di San Vincenzo si trova nella porzione sud-occidentale della provincia di Livorno. Fa parte del circondario della Val di Cornia insieme a Piombino, Campiglia Marittima, Suveretto e Sassetta. Trattandosi di Comune turistico, San Vincenzo subisce incrementi nella quantità di rifiuti prodotti in virtù del numero di presenze turistiche che alzano la media per abitante residente. Le attività presenti sono pertanto di tipo commerciale, alcuni esercizi sono aperti solo nel periodo estivo, l'artigianato di produzione è limitato a poche attività e l'industria è presente.